Ma eh? Allora... Cosa? Ti vuoi calare? Allora, ehm... Amici che ti vuoi calare? No, beh, fai, raffetto. Rullo di Dambuli dovrebbe essere solo alla fine quando si... The winner is... Chi è che gestisce il ruolo di Dambuli? Chi è che gestisce il ruolo di Dambuli? Scusate, io. Ahahahah! Fabio! No, non lo so! Non lo so! No, non lo so! No, non lo so! No, non lo so! Sforzo, sforzo! Sforzo, sforzo! Sforzo, sforzo! Non lo so! Non lo so! Non lo so! Hai fatto il master! Ce la puoi fare! Hai fatto il master! Il ruolo di Dambuli c'è... Un pochettino all'inizio... Un attimo solo per catturare l'attenzione e poi dopo... Aspetta, lo che hai fatto! In un momento tu! Si è perso, sei già perso! Si è già perso! No, fatelo fare a Spons, dai! No, no! Che cazzo hai messo? Che cazzo è donna? Ahahahah! No, fanno fare a Spons che è ingegnere! Spons è ingegnere, queste cose le fa! Il ruolo del cammulo! Ah, il ruolo è meglio! Eccolo qua! Dai! Va bene! Allora, facciamo la prova, dai! Prima... Ma scusami, ma la madrina è Aurora o cosa? Questo! Aspetta, stop! Stop! Allora, prova! Un, due, tre, prova! Rullo! Vai, la riguarda, scusa! Un po' più, però adesso un po' più forte il volume non si sente! Un po' più forte il volume non si sente! Un po' più forte il volume non si sente! Un po' più ha? Ma basta, dai